Calabria nel 2023 l'economia cresce ma meno rispetto alla media nazionale. Il periodico rapporto della sede regionale della Banca d'Italia denota un rallentamento dopo il biennio di recupero successivo alla crisi pandemica. Tra risse e proteste il governo occorre su autonomia e premierato. In Senato il primo sì, clima rovente prima per l'espulsione del leghista calabrese Furgiuele e poi per la battaglia tra Donno e Iezzi, ira delle opposizioni. Risultato calabrese tra i migliori in Italia. Alla mezzia terme Alleanza Verdi e Sinistra analizza gli ottimi risultati ottenuti alle ultime consultazioni europee. Pignataro, puntiamo ad un'idea diversa di accoglienza, di solidarietà e di società. Catanzaro, la serenità di noto e le posizioni di Magalini e Vivarini. Il patron ha provato a tranquillizzare la piazza ma dalle sue parole è emerso un forte attrito con il tecnico ed il DS. Ne discuteremo nelle sedi opportune. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro Corriere TV. È un'economia in crescita ma che cresce in maniera più lenta rispetto a quella della Paese. Il quadro che emerge dall'annuale rapporto di Banca d'Italia sull'economia calabrese è presentato a Catanzaro. A fornire tutti i dati il direttore della filiale di Catanzaro, Marcello Malamisura. Nel 2023 l'economia calabresi ha rallentato dopo il biegno di recupero sostenuto che aveva fatto seguito alla crisi pandemica. Sulla base dell'indicatore ITER della Banca d'Italia l'attività economica in Calabria è cresciuta nel corso dello scorso anno dello 0,6%, un dato simile al mezzogiorno ma inferiore alla media italiana. A snocciolare molti dei dati il direttore della filiale di Catanzaro della Banca d'Italia, Marcello Malamisura, in occasione della consueta presentazione del rapporto annuale sullo stato di salute dell'economia regionale. L'economia calabrese nel 2023 ha registrato una crescita dello 0,6%, stimiamo sostanzialmente di poco inferiore alla media del mezzogiorno e diventa più contenuta nella media dell'Italia. Si direva che nel complesso l'economia continua ancora, insomma, nella fase di recupero avviata dopo la crisi della pandemia e siamo per molti versi, su molti aspetti e su livelli anche già superiori rispetto ai valori prepandemici. Il fatturato delle imprese è cresciuto anche se in misura più contenuta rispetto all'anno precedente, soprattutto ha rallentato il settore dei servizi, ancora bene il comparto delle costruzioni. Nel settore manifatturiero registriamo una lieve riduzione dei volumi produttivi, soprattutto per le imprese di minore dimensione. Dal lato delle famiglie sicuramente l'aumento che pure c'è stato ai livelli occupazionali ha favorito un mantenimento di una buona crescita del reddito disponibile, che comunque è ancora inferiore rispetto alla crescita del costo della vita, la fiammata inflazionistica che si è avviata nel 2021. Ma nel corso del 2023 le tensioni inflazionistiche si sono andate via via riducendo e questo lascia ben sperare, soprattutto per le prospettive. Passiamo alla politica con la calda giornata vissuta ieri tra Camera e Senato. Una giornata caratterizzata da espulsioni, proteste e risse, ma che vede il governo continuare a correre su autonomia differenziata e premierato. Un'espulsione, proteste ed anche una rissa. Non è mancato davvero nulla ieri alla Camera in un clima rovente, così mentre in gioco c'erano due pilastri nel percorso di riforma sognato dal governo di centrodestra, autonomia differenziata e premierato, in aula alcuni deputati non hanno retto l'attenzione. Ad aprire le danze ci ha pensato il leghista calabrese Domenico Furgioele che al bella ciao e al tricolore sventolato dall'opposizione ha deciso di rispondere con il segno della decima mass rispolverato in campagna elettorale dal neoletto eurodeputato Vannacci. Finirà con l'espulsione del deputato Lamettino. Ma non è finita qui. Il deputato Donno del Movimento 5 Stelle prova a consegnare un tricolore al ministro Calderoli. I due vengono subito accerchiati dai compagni di partito scatenando così l'immediata rissa. Il resto è la cronaca delle ultime frenetiche ore che hanno già fatto il giro del web. Temperatura rovente anche in Senato. Qui infatti è stato approvato il cuore dell'altra riforma, ovvero il premierato, con l'articolo che introduce l'elezione diretta. Il testo sarà approvato il 18 giugno e in contemporanea al via libera alla Camera dell'altra riforma. L'autonomia differenziata è un percorso parallelo che rinsalda il patto politico della maggioranza ma che ha anche contribuito a compattare tutte le opposizioni. Dopo l'exploare le ultime consultazioni europee, Alleanza Verdi e Sinistra ha fatto il punto alla mezzia terme analizzando le ragioni dell'ottima affermazione ottenuta. Credo che il risultato calabrese sia uno dei migliori risultati d'Italia. Abbiamo avuto già le congratulazioni dal nostro segretario nazionale perché noi partivamo da un dato del 2022 di 1,8% alla Camera e di 1,5% al Senato. Sfiorare il 6% significa quadruplicare i voti. Credo che questo risultato venga dalla chiarezza della nostra posizione, da candidature che sono state trainanti, trascinanti praticamente perché le candidature stesse erano un progetto politico. Il candidare Lucano, Lasales e Maria Pia Funaro qui in Calabria significava mettere dentro una idea diversa di accoglienza, una idea diversa di solidarietà, una idea diversa di società calabrese. Lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto bene in una campagna che è durata poco, altrimenti avremmo ottenuto maggiori risultati. Con i compagni candidati che si sono spesi ma non hanno potuto, soprattutto Lucano che ha dovuto coprire quattro circoscrizioni non è riuscito ad arrivare in tutti i luoghi della Calabria, altrimenti avremmo avuto un risultato molto più eclatante di quello che ci è già stato. Prosegue la campagna di raccolta firme della CGL per i referendum popolari per un lavoro stabile, dignitoso, tutelato e sicuro. Al centro delle questioni anche il tema della sanità. Questa mattina si tiene davanti all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Come CGL insieme alle due categorie dello spie dei pensionati della funzione pubblica ma insieme pure alla categoria della scuola e dell'istruzione siamo qua a portare avanti quelli che comunque sono i temi che secondo noi bisogna dare soluzioni. A partire dalla sanità, una sanità pubblica, una sanità che dia risposta ai cittadini e alle cittadine calabresi. Un servizio sanitario che deve essere, deve garantire quei diritti che oggi vengono denegati. A partire comunque dalle cose che stiamo dicendo da tempo, quindi chiediamo al commissario Occhiuto di dare seguito a quelle che comunque sono sia l'impegno che ha intrapreso con le organizzazioni sindacali per quanto riguarda l'istituzione di quei tavoli provinciali con le aziende sanitarie e le ASPA per capire un attimino come siamo messi, sia in termini di organici che purtroppo ancora ad oggi registriamo una carenza che sta mettendo in difficoltà l'assistenza ai cittadini e soprattutto per dare seguito a tutte quelle questioni. A partire dall'istruzione, come dicevo, che anche qua siamo per portare in piazza quelli che sono i quattro quesiti referendari che la CGL ha messi in campo per quanto riguarda il lavoro, il precariato e soprattutto la sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto quelli che sono gli effetti purtroppo che in queste ore si sta discutendo dell'autonomia differenziata che per quanto riguarda i due settori, sia la scuola e sia la sanità, metterà ancora a rischio quella che è la tenuta poi del sistema in Calabria. Quindi la cronaca, i carabinieri territoriali e forestali hanno sequestrato una discarica abusiva di due ettari in una zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico dove erano stati accumulati oltre 500 metri cubi di rifiuti di varia natura. I carabinieri della stazione di Spiling insieme al nucleo forestale con il supporto dell'ARPACAL di Vibo Valencia hanno effettuato controlli approfonditi su un fondo agricolo a ricadi. Gli accertamenti hanno rivelato l'abbandono sistematico di rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui plastiche, materiali bituminosi, apparecchi informatici fuori uso, scarti vegetali e legnosi, oltre a materiale cementizio e calcestruzzo. L'area, trasformata in una discarica a cielo aperto, è stata prontamente sequestrata dai militari con l'obiettivo di ripristinare lo stato originario dei luoghi e di risalire agli autori dell'abbandono. Ci spostiamo ora alle Castella, dove è in corso il 42esimo forum dell'Associazione Nazionale Funzionari Ispettivi Pubblici. Vediamo il servizio. In corso alle Castella d'Isola Caporizzuto, fino a sabato 15 giugno, il 42esimo forum ANIV, l'Associazione Nazionale Funzionari Ispettivi Pubblici sulle attività di vigilanza. Attività ispettiva avanti tutte, il titolo dell'edizione 2024 dell'evento che è visto presente alla nuova governance dell'Inps guidata dal presidente Gabriele Fava. Abbiamo deciso di partire dalla Calabria proprio dal presidio della legalità per ascoltare i territori, partendo proprio da qui, ascoltare i territori, ascoltare e intercettare il fabbisogno, che vuol dire anche criticità o proposte di miglioramento. Da qui stiamo partendo per sentire e ascoltare un po' tutti i territori. Presente anche il governatore Roberto Occhiuto. Sono molto contento che il presidente e il direttore generale dell'Inps, la nuova governance dell'Inps, abbiamo scelto la Calabria per iniziare questa campagna d'ascolto. Sono molto contento di aver rivisto il presidente dell'Inps che conoscevo per altre funzioni che lui ha svolto molto meritoriamente in passato per conto del governo. Con l'Inps regionale c'è un rapporto fecondo tra la regione e l'Inps. Sono sicuro che per il tramite della direzione regionale dell'Inps Calabria, questo rapporto fecondo si potrà consolidare anche con la governance nazionale e l'istituto. Sono tanti ambiti nei quali si può collaborare e c'è, mi pare, grande disponibilità da parte dell'Inps, sicuramente c'è grande disponibilità da parte della regione. È stata presentata in Cittadella regionale la prima rassegna regionale sul mondo degli amari, dei distillati e degli spirits. Si terrà a Fuscaldo sul Tirreno Cosentino il 28 e 29 giugno. La prima rassegna regionale sul mondo degli amari, dei distillati e degli spirits si terrà a Fuscaldo sul Tirreno Cosentino il 28 e 29 giugno prossimi. Spirito Mediterraneo, il titolo della Kermess, organizzata dall'Associazione Volare e le Meraviglie del Borgo al supporto importante della regione Calabria, di Arsac, della Proloco, dell'UMPLI, dell'Università Mediterranea, del Fatto in Calabria, di Terre da Mare e del CSV di Cosenza. Spirito Mediterraneo nasce da un incontro tra due persone che si sono ritrovate sotto l'idea di promuovere proprio la Calabria con un aspetto diverso, di promuovere la Calabria attraverso gli amari, gli spirits e tutto quello che può essere come volano affinché la Calabria sia l'ombelico del Mediterraneo. Per questo è nato Spirito Mediterraneo, nasce proprio da questa idea. La Calabria è terra di primati nel settore degli amari perché oltre il 50% del mercato nazionale degli amari è detenuto dalla Calabria grazie ad un'azienda calabrese in particolare, l'azienda CAFO, quella della mano del capo per intenderci, che ha anche ispirato tantissime altre aziende che hanno seguito questo grande esempio e che quindi costituiscono una fetta importante del mercato nazionale. Ed è chiaro che tutto questo settore, che è un settore che peraltro si collega anche al settore primario, al settore agricolo, quello delle erbe officinali, delle piante officinali, quindi alla nostra biodiversità, va valorizzato e viene valorizzato da questa iniziativa interessante del Comune di Fuscaldo che è un'iniziativa che spero possa avere seguito e che noi sosteniamo con determinazione. Chiudiamo con il calcio e con la rivoluzione in atto in casa Catanzaro. Vanno via direttore generale, direttore sportivo e allenatore, ma il presidente Noto ha già pronto il piano B, anche se con Magalini e Vivarini la questione si risolverà nelle sedi opportune. Si è detto serenissimo, pronto ad attuare il suo piano B, ma dalle sue parole è emerso anche un po' di rammarico per una situazione che in pochissimi giorni ha visto il Catanzaro, delle meraviglie, perdere alcuni dei suoi uomini migliori, quelli che in appena due anni hanno portato i colori giallorossi dalla Serie C a un passo dalla massima serie. Il presidente Floriano Noto ieri davanti ai cronisti ed alcuni tifosi ha provato a mostrarsi calmo e col sorriso sul volto ha affermato che gli addi annunciati del direttore sportivo Giuseppe Magalini e del tecnico Vincenzo Vivarini, che si sommano alla partenza concordata del DG Diego Foresti, non siano un problema insormontabile. Poi però, tra un pensiero al futuro, appunto con un piano B, relativo al momento solo alla figura del direttore generale da ufficializzare a giorni, il patron ha tenuto a specificare che i capitoli Magalini e Vivarini sono tutt'altro che chiusi, lasciando intendere anche di poter avviare un procedimento legale. Noi abbiamo già pronto il piano B da tempo, per cui credo che ufficializzeremo le cose a giorni, se non all'inizio della prossima settimana. Il piano B mi riferisco al direttore generale, col direttore sportivo, con l'allenatore, invece c'è da discutere alcune cose perché sono sotto contratto entrambi, quindi non è che uno decide di non venire e non viene. Con Magalini e Vivarini, che avevano due contratti già firmati, vedremo nelle sede opportune, ma quello è un altro discorso. Sede opportune che intende? Sede opportune sono le sede opportune. Incalzato sul possibile sostituto di Vivarini, il Presidente ha così risposto. Non abbiamo contattato nessuno perché per noi è sotto contratto Vivarini, quindi per noi in questo momento c'è il contratto Vivarini. Poi se si scioglierà il contratto Vivarini nelle sede opportune, valuteremo quello che è da farsi. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro Tg. e vi do appuntamento alle prossime.